Biosline è un'azienda padovana nata nel 1986 che opera nel campo dell'integrazione e della cosmesi naturale. Biosline tratta un portafoglio prodotti di circa 500 referenze e serviamo 5.000 clienti in Italia e siamo presenti in oltre 40 paesi all'estero. Biosline ha acquistato il primo modula nel 2017. È stata una scelta dovuta a questioni logistiche prevalentemente e anche per un aiuto al lavoro degli operatori. Siamo passati da un operatore con un carrello che preparava un ordine e faceva chilometri all'interno del magazzino. L'evoluzione è stata che con il modula siamo passati a un operatore che contemporaneamente prepara 10 ordini. Nel 2016 abbiamo rivoluzionato il sistema di confezionamento. L'evoluzione, l'amodernamento che abbiamo pensato è stato quello di cercare un automatismo nella preparazione degli ordini di piccola taglia. Il sistema modula ci permette di, soprattutto con l'inserimento della barra Plutolight, ci permette di evitare in maniera esponenziale gli errori. La barra alfanumerica ci indica esattamente qual è l'articolo da prelevare e la quantità totale degli articoli da prelevare e ogni ordine ha un barcode identificativo. Tramite questo barcode noi prendiamo l'ordine, lo portiamo al modula e con il barcode assegniamo quell'ordine ad una piazzolla. Quindi avremo dieci ordini, dieci piazzolle. L'ordine viene preparato, viene completato. Quando è finito l'operatore lo porta nell'area parcheggio, a disposizione dei confezionatori che in base al ciclo di lavoro fanno il prelievo. L'inserimento dei modula ci ha permesso di ridistribuire le risorse aziendali e abbiamo destinato le risorse ad altri ruoli. Noi abbiamo un grosso numero di persone che lavorano nel confezionamento, abbiamo reindirizzato queste risorse nel punto dove avevamo bisogno. I due software si sono integrati in maniera ottimale e veloce. Pensavamo ci fossero dei problemi insormontabili, invece siamo stati bravi, o meglio i tecnici di modula e i nostri di visione impresa, si sono parlati e in maniera proprio velocissima abbiamo avuto un'integrazione che è ottimale.